Ben ritrovati a tutti, siamo giunti all'ultimo video per quanto riguarda il regolamento standard base della Standard Combat Series. Faremo un altro video di un esempio di partita e quindi andiamo oggi ad affrontare gli ultimi due argomenti del regolamento che sono la fase di sfruttamento, exploitation e rifornimenti. Per quanto riguarda lo sfruttamento, la fase di exploitation, come abbiamo detto è un movimento che viene fatto dopo il combattimento e i risultati del combattimento e possono farlo solo chi ha il box giallo, quindi ha l'exploitation, capacità di exploitation. In questo caso qua tutte le unità con la banda gialla possono, ovviamente del giocatore in fase, possono muovere e alla massimo della loro capacità, quindi per esempio questa unità di 6 e possono fare anche overrun. Facciamo un esempio, questa unità qua si può muovere di 6, quindi vuole attaccare questa divisione di cavalleria, quindi spenderà 1, 2, 3 per entrare nella zoc, 4, 5 per fare l'overrun. Ovviamente se questa unità qua fosse in zoc, come in questo caso qua, questa unità qua tedesca non può né muoversi né fare overrun, quindi molto semplice. È un movimento aggiuntivo che viene dato alle unità con la banda gialla che ripeto solitamente sono unità motorizzate, infatti qua per esempio vediamo l'unità russa con la banda gialla sono carri armati, questa è fanteria motorizzata perché ha le due palline sotto, tutti simboli nato, li trovate online e questa per esempio russa è solo fanteria ma non è motorizzata, quindi non ha la banda gialla e la cavalleria comunque viene considerata appunto non motorizzata e non ha la capacità appunto di sfruttamento, di exploitation. Passiamo all'ultimo argomento che è la fase dei rifornimenti, ovviamente in questa serie qua, a parte qualche gioco di questa serie, i rifornimenti vengono simulati in modo abbastanza astratto utilizzando un concetto che è quella della linea di rifornimento, cioè creare una linea lungo gli esagoni per arrivare alle fonti di rifornimento, le fonti di rifornimento come abbiamo visto prima, ma ve le torno a far vedere, scusate, allora quelle russe sono queste qua dove c'è la stellina rossa e quelle tedesche ovviamente saranno dove c'è il simbolo tedesco di entrata di rifornimenti arrivano appunto da queste, da questi esagoni qua. Ogni gioco ha però, potrebbe avere delle variazioni, se andate a vedere i video per esempio di Africa, seconda edizione che ho fatto, lì i rifornimenti avevano una valenza, avevano una certa importanza nel gioco, perché i tedeschi e gli italiani dovevano, faticavano a far arrivare in prima linea i rifornimenti, quindi lì non vi è la linea di rifornimento, ma ci sono proprio pedine che rappresentano i mezzi, i camion che portavano in prima linea rifornimenti di armamenti. Però solitamente in molti giochi della serie vi è questo concetto di linea di rifornimento. Il giocatore attivo, facciamo un esempio che questo sia il turno tedesco, finito la fase di exploitation, di sfruttamento, entra nella fase dei rifornimenti, il giocatore attivo controlla ogni singola unità o stack, una a uno, e deve vedere se questa linea collega l'unità alle fonti di rifornimento che abbiamo visto prima. Se questa linea non riesce ad arrivare alla fonte di rifornimento, verranno segnate le unità con una pedina di auto supply. A seconda del gioco, questo marker avrà valenze differenti. Adesso per esempio prendiamo il regolamento di Rostov, ok per esempio ecco qua, le unità fuori rifornimento avranno l'attacco, la forza di attacco e di difesa e di movimento dimezzato, in più l'artiglieria non potrà fare barrage e le unità non avranno la possibilità di fare exploitation e non creeranno zoc. Quindi in questo caso qua l'unità non potrà, avrà la forza dimezzato in attacco, quindi 1,5, in difesa avrà 2,5 e 3 di movimento. In più non avrà la banda gialla, quindi non potrà nel prossimo turno, nel prossimo turno fare la fase di sfruttamento, exploitation oppure nel movimento poter fare overrun, si potrà muovere ovviamente solo di 3 ma non potrà fare overrun, perché l'overrun ricordiamoci nel movimento può fare solo chi ha i numeri dentro il box giallo. ovviamente la linea di rifornimento, la linea di rifornimento deve essere libera da zoc nemiche e in questo caso qua vediamo che qui è in zoc nemica, qui in zoc nemica, qui in zoc nemica e qui ovviamente dopo è una penisola e non si può arrivare alla fonte di rifornimento. La linea di rifornimento, quindi non può attraversare zoc, non può attraversare neanche esagoni invalicabili tipo questo, a parte se non è gelato il fiume, però se non ci fosse il gelo, da questo esagono qua a questo esagono qua le unità non possono andare, quindi si bloccherebbe la linea di rifornimento e ovviamente la linea non può passare dove ci sono sopra proprio delle unità nemiche. Come abbiamo detto ogni gioco ha degli effetti sull'out of supply, cioè del fuori rifornimento, il fuori rifornimento ovviamente può essere, la linea di rifornimento può passare però su unità amiche, quindi se ci troviamo in questa situazione qua e questa unità qua dobbiamo valutare se è rifornimento o no, qua non può andare perché è in zoc, c'è la zoc nemica, però qui e qui può andare perché ci sono delle unità amiche e quindi in questo esagono qua può andare e da lì può arrivare alla fonte di rifornimento. Altre cose da dire sull'out of supply non ci sono, magari volevamo guardare l'esempio, vediamo, sulla linea di rifornimento appunto se B è la fonte di rifornimento, la fanteria qui è il rifornimento perché la linea passa sopra alle due unità come vi ho fatto vedere prima, se non ci fossero queste due unità, questa unità tedesca e questa unità tedesca creerebbero le zoc, due zoc dove ci sono queste due unità russe e quindi la linea di rifornimento sarebbe bloccata e quest'unità qua andrebbe auto supply. Ovviamente se non ricordo male che ci guardo, l'unità rimarrà auto supply per tutto fino al turno successivo del giocatore, in questo caso, facciamo un esempio, questa unità qua va in auto supply, quindi finisce la fase tedesca, inizierà la fase russa, ovviamente nella fase di rifornimenti russa, il russo valuterà le proprie unità e il tedesco rimarrà auto supply, nel turno successivo se tornerà libera la linea di rifornimento, il marker auto supply dell'unità tedesca verrà tolta. Guardo solo per sicurezza che non abbia, perché i rifornimenti, stavo guardando, perché sì, i rifornimenti sono, riguardano secondo me solo i giocatori in fase, non vorrei dire una stupidata, ma direi sì che è così, però ci guardiamo, sì il giocatore in fase fa un check su tutte le proprie unità, quindi quando il russo nella fase successiva farà il proprio check su tutte le sue unità per vedere se sono in rifornimento, l'unità tedesca non lo farà, ma potrà farlo solo nel turno successivo. Ultima cosa che vorrei aggiungere, non abbiamo guardato le artiglierie, vedremo poi nell'esempio di gioco come funzionano il barrage e le artiglierie, volevo solo far presente che questo 3 qua è il raggio dove le artiglierie possono partecipare all'attacco, cosa che non abbiamo detto nei video precedenti. Altra cosa, quando è che è controllato un esagono? Faccio un esempio, questa città qua, che sono tre punti sulla conquista il tedesco, un esagono controllato se è occupato ovviamente dall'unità, quindi in questo caso qua l'unità russa occupa, oppure se l'ultima che ci è passata, basta passarci sopra e diventa controllato da parte del russo. Creare una zoc non vuol dire controllare l'esagono, ma bisogna esserci sopra o esserci passato sopra, non so se c'è un esempio anche su questa cosa qua che ci guardiamo, no direi di no, e direi di aver concluso con questo video tutto il regolamento del standard base della standard combat series, abbiamo tralasciato ovviamente un sacco di piccole regole, questi video non vogliono sostituire assolutamente il regolamento, ma volevo dare un'infarinatura per quanto riguarda il gioco. Nel prossimo video, nei prossimi video, adesso guardo se farne un paio, andremo a iniziare magari un piccolo scenario di Rostoff 41.